vi accompagneremo alle scoperte del mondo della Grecia allora in seguito alle recenti scoperte si è scoperto che non avevo spinto il tasto per registrare quindi riscopriamo per l'ennesima volta l'animale locale annegato nella cenere sotto gli effetti di una droga mentre cerca la morte qui un ammasso chiamato l'obice eros impossibile capire quale sia la testa e quale sia il corpo un ammasso di cosa? diciamo che è una specie di cerchi un ammasso di cosa? un ammasso di merda, sterco continuiamo il nostro tour alla scoperta dell'animale tipico greco ecco vediamolo qui mentre tenta di scoprire la cera 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 sul mio pantalone c'è ancora go spallato chiediamo il perdente se volano il caffè aspetta ti sto facendo una zoomata guarda non mi sono mosso per niente una ripresa perfetta perdente se volano il caffè l'animale tipico della grecia beve caffè e che festa? tipica reazione da drogata caffè esce il mio dalle laccherie direttamente dalla grecia ammas indefinito è un dio greco posso scegliere questo? puoi uscire così? non lo so scappiamolo subito è un animale istentire muoviti è il caffè dove c'era il suo il caffè? è un animale che non parla e mette suoni comunque non si è capito vuoi caffè? i perdenti vogliono il caffè ritorniamo all'animale primitivo greco potreste notare che nella nostra assenza è riuscito a creare il fuoco una magica scoperta gli antichi greci triste questo animale greco è veramente triste non sa che fare la noia la noia della grecia tipica noia guardatela mentre aspetta la morte questo è un animale veramente raro per farselo ce ne vuole e anche per trovare una verità proprio milioni di altri animali di altre specie hanno cercato di farsela ma lui era molto raro per farsela ce ne vuole tramite queste mannele era possibile allattare l'intera grecia per farsela adesso sono addirittura ingrassato guarda perchè lascia la bianca vabbè 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 ciao perchè no? ciao 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 vabbè lascia la bianca lascia la bianca cosa hai detto? è vero la dite un'altra parte è vero ascele ascele i ragazzi questi sono momenti sacri mastromarino se non ho ripreso la dedica la mastromarino prima mastromarino questo è per te questo è per te questo è il coglione come c'è la trina il rituale del caffè tipico qui in grecia per te questo è il cuore perchè non metti a fuoco? perchè non metti a fuoco... tu hai forigio non la sapo stai a fuorisio nonessere che hai messo il cuore perchè Kiana fa quando c'è la voce perché c'è la voce ma non c'è la voce perchè non c'è la voce Caffè? Non lo so se sta ancora. Sì, mentre ti abbiamo svegliato e tu non ti sei svegliato. Sta ancora la pasta? Chiede un animale. C'è, non sarà buonissima. Che cazzo ha detto? Vuoi il caffè? Che cazzo me ne faccio del caffè? Che cazzo se ne fa del caffè? Disse la voce. Sì, è l'ultimo piatto. Mi ha fatto una scop. Infatti, una scop. Perché ce ne so la prima. Adesso non sappi che te l'ho ripresa in tutto questo pezzo. L'animale è greco, è molto stupido. Non ci sono medicina, per favore. E la capice ha piattuto. D'altronde morirà fra pochi attimi. Non mi sapevo la lingua. Aia. Ciao. Papi. Arrivederci dal mondo di cuore.